Il costruttore di auto elettriche di lusso Tesla, di Elon Musk, ha annunciato l'acquisizione del gruppo specializzato in energia solare SolarCity per circa 2,3 miliardi di euro. Le due aziende prevedono un risparmio dei costi di oltre 130 milioni di euro il primo anno grazie alla fusione. Quest'ultima fa storcere il naso a diversi investitori ed esperti che denunciano un conflitto di interessi. Musk è amministratore delegato di Tesla e presidente di SolarCity, primo produttore di pannelli solari negli Stati Uniti, un progetto da lui suggerito ai fondatori Peter e Lyndon Rive, suoi cugini. SolarCity ha tempo fino al 14 settembre per ricevere altre proposte di acquisizione. L'unione con Tesla dovrebbe essere ufficiale nell'ultima parte dell'anno.